Al momento tra le due squadre abruzzesi di Lega Pro quella più attiva sul mercato è l'Aquila che in attesa dell'apertura ufficiale della sessione sta sviluppando sotto traccia i suoi movimenti. La caccia del DS Aquilano Ercole di Nicola è concentrata soprattutto sul reparto offensivo dove l'unico a restare a meno di clamorosi colpi di scena sarà la Pantera Claudio De Sousa. Tra i colpi di prospettiva circola nelle ultime ore il nome di Cristiano Ingretolli, attaccante classe 94 ex Primavera del Pescara. C'è poi il centravanti d'esperienza del Catanzaro Giordano Fioretti classe 85 in uscita dal club calabrese dopo due annate consecutive in prima divisione da 24 reti 12 a stagione. Fioretti conteso anche da Lecce, Teramo ed Ascoli viene ricordato soprattutto per i 38 gol messi a segno ai tempi della sua permanenza in seconda divisione con il Gavorrano. Per quanto riguarda la mediana invece l'Aquila è in vantaggio sull'Ischia nella trattativa per il centrocampista siciliano classe 95 Danilo Bulevardi proveniente dalla Primavera del Pescara con una presenza in Serie B proprio con i biancazzurri a maggio. In casa Teramo sono ore decisive per il futuro di Pier Antonio Sassano. Il DS Marcello Di Giuseppe è in contatto con il Trapani per discutere la comproprietà del 22enne esterno siciliano. Ogni scenario è possibile. Sassano potrebbe restare in bianco rosso rispettando un accordo già fissato per il prossimo anno ma potrebbe anche fare ritorno al Trapani ed essere girato eventualmente ad altre squadre. Non escluse inoltre l'ipotesi di finire alle buste. Entro domani, ultimo giorno utile per le comproprietà, il Lodo Sassano verrà comunque sciolto. Per quel che riguarda i nuovi acquisti è possibile che qualche trattativa si sblocchi già dalla prossima settimana. A centrocampo nelle ultime ore è tornato a circolare il nome dell'ex chieti Stefano Amadio che però non rappresenterebbe una priorità per il Teramo, intenzionato a prendere come prima opzione il 21enne del Pisa Gianluca San Pietro. Nel reparto attaccanti si punta l'esperto Andrea Soncin, classe 78, che quest'anno ha disputato una deludente stagione in Serie B ad Avellino. Bisognerà battere però la concorrenza dell'Ascoli, società nella quale Soncin ha militato tra il 2007 ed il 2013 segnando complessivamente 49 reti.